Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui con la carriera giocatore su FIFA 23, pronti a disputare su Tirol a Bari. Forza Benji dai, calcio d'angolo per su Tirol. La blocca senza problemi Benji, su Tirol in contropiede, attenzione. Chiudete, chiudeteli, chiudeteli. Dai, pigliate sta palla, su ragazzi. Dai Bari, dai, piglietti sto pallone, guarda quello come lo fa passare. Oh, finalmente ci ha messo il piedino. Bari in vantaggio per 1-0, calcio d'angolo su Tirol. Mi raccomando Benji. Bravissimo Benji. Ancora 1-0 ed occasione di cross per il su Tirol. Bravissimo Benji. Ed è finita. Finisce 2-0. Bravo Benji. Rete inviolata. Conquistata in questa partita. e ci portiamo a casa 3 punti importanti, ovviamente, verso... Uh, ha fatto 3 gli obiettivi. Bravo Benji. Adesso contro il Venezia abbiamo 56 punti in campionato, più 10 dal Genoa con una partita in meno. Quindi, potenzialmente, siamo a più 13 se battiamo, ovviamente, il Venezia. No! Ah, l'ho parata. Mi era sembrato che fosse finita... in red. Ho detto, ma come? Non l'ho parata. Mi ha ingannato. La mette in area. Finisce qui la cena d'attacco. Carbono. Zampano. Lo vede? Capisce tutto e ferma l'azione. Ancora Venezia in attacco. No! Mannaggia. Mi son buttato troppo lento. Ha vinto il Bari comunque, dai. L'ottantesimo che il Dira... Io di attivo la prossima volta, caro Benji. Livello raggiunto, quindi... Andiamo a migliorare il calciatore. Allora. Dov'era che volevo aumentarlo? Nel tuffo. Mi sembra che questo qui volessi aumentare. Sì, sicuramente questo qui che mi dava più 3, perché altri... ...al momento non me le danno. Quindi questo qui. 92 in tuffo. In questo vado a 95 di presa. Mancano due... Io metto ancora i riflessi, va. Spendo qui. E porto i riflessi a 96 ora. Cresciuto di un altro punto, quindi 89 di overall. Ottimo, Benji. Coppa Italia contro la Juventus. Ottavi difficilissimi. Proviamoci. Occasione di cross per la Juventus. Benji! Ancora! Se la cava in qualche modo. Juventus in attacco al 27esimo. Buona la chiusura. Ancora la Juve in attacco. Il numero 18 non è in fuori... No, no. Forse è tenuto da quell'altro. Pensavo fosse in fuorigioco, però ho visto l'altro giocatore del Bari. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Ancora calcio d'angolo per la Juventus. Occhio qui, eh. Ah, smanaccia. Price, però il pallone è ancora vivo. C'è Benji! Ma come l'ha parato? Non si è tuffato? L'ha respinta? Mamma mia! Juventus... Ahia! Si invola in solitaria. Ahia! E il Bari non ha ancora segnato. Chiudetelo, chiudetelo, chiudetelo. Uh! Il filo... Eh, vabbè, dai, rigore. Però Bari in vantaggio. Però, dai. Mi doveva dare proprio all'ottantasettesimo il rigore. Che diamine. Il rigore può valere la parità. E la para! Benji la para! Benji la para! E manda il Bari! E manda il Bari ai quarti! Para il rigore! E manda il Bari ai quarti! Price decisivo! Price decisivo! Grande Benji! Grande Benji! Grande Benji! Partita l'ha decisa lui. Perché poi si sarebbe proseguito sicuramente ai supplementari. fare il rigore a Vlaovic, se ho visto bene. Grande Benji! Allora, andiamo a vedere chi passa ai quarti. La Roma elimina l'Ascoli. Noi a sorpresa eliminiamo il Bari. La Lazio invece 4 a 3 i rigori. La Fiorentina elimina il Sassuolo. Il Milan elimina l'Elas Verona. L'Atalanta elimina il Genoa 5 a 4 i rigori. L'Inter elimina il Cagliari 3 a 2. e il Napoli 4 a 1 la Salernitana. Posso richiedere, è vero, l'aumento dell'ingaggio. Perché ora ho ottenuto l'89 di overall. L'aumento dell'ingaggio è quant'è? 2.300 a settimana. Mamma mia, pochissime. È vero che si tratta comunque della squadra che milita in Serie B. Però dai, un pochetto di più. Lo merita Price, dai. Lo merita. Merita più di 2.300 a settimana. Eh, vedremo se non ci saranno sirene, che so, dalla Premier, dalle Big. La Juventus potrebbe averci, non so, monitorato. Ricordiamo che Benji potrebbe andare alla Juve, perché non è JD. Che è tifoso JD, come si sa, del Napoli. Quindi non voleva fare il torto alla propria squadra. Ma Benji invece no, non è tifoso del Napoli. Comunque andiamo a giocare anche questa contro il Modena. Occhio. La cattura. Benji. Bari si invola in... No, è Modena, scusate, ho detto Bari. Al sessantesimo siamo noi in vantaggio per 1-0. Però occhio adesso... Uh, difensore. Vai addosso. Non so se l'ho deviato o ha sbagliato proprio il portiere. Non si è capito. Cioè, il calciatore. Ma non mi interessa, basta che non hanno segnato. Uh. No, non si è tuffato. Però ha fatto un bel gol. Finisce. 3-1. Vabbè, dai. Eh, purtroppo non posso pararle tutte. Forse in qualcosa potrei fare ancora meglio. Però vabbè. L'importante è che la squadra vinca. E lo ha fatto battendo 3-1 il Modena. Allora, io qui schippo direttamente fino all'ultimo giorno perché non vado via da Bari. Non prendo in considerazione offerte. Siamo arrivati da 6 mesi, quindi non me ne vado sicuramente. Allora, io ho 76.000, quindi avevo già investito, mi ricordo. No, non credo. Quindi posso investire ora e investo in Team Esports. 50.000. E poi mi rimangono 26.000 per fare un acquisto. Allora, qui non ci posso andare. Acquisto una bici. Così, a caso. Di alta gamma anche per... Solo perché mi dà questi bonusetti che possono essermi inutili. Vai, acquistiamo questa bici. Andiamo a giocare. Dai, Bari contro il Parma che vuol vincere il Parma per rimanere attaccato al Geno o chissà anche per scavalcarlo. Occasione di cross per il Parma con il Bari in vantaggio per una rete a zero. Attenzione, eh. Sul palo esterno. Parma in contropiede. Siamo 1-0 ancora. Buona chiusura. Parma in contropiede. Settantunesimo. Occhio. Bravo. Venita. Rete inviolata. 3-0 senza particolari pericoli. C'è da dirlo. Partita molto tranquilla. Venci non si è dovuto nemmeno scaldare. Infatti un tiro. Zero occasioni per il Parma. Ma come scarsi risultati per l'allenatura. Ma scusate. Siamo ai quarti di Coppa Italia. Siamo primissimi in campionato. Cioè, si sta giocando tutti... Siamo ancora in tutte e due le competizioni. La prima, la principale. Stiamo passando da primi. Siamo in quarti di Coppa Italia. Come scarsi risultati per l'allenatore. Dovesse usannare l'allenatore che in 25 partite comunque ha ottenuto 20 vittorie e 5 pareggi. Io non so che cosa vogliono. Anzi, cosa vuole questa società. Io direi che va bene così per oggi. Mi fermo con... Siamo arrivati fino al 4 di febbraio. Continuiamo nel prossimo episodio. Tanto non manca tantissimo al finale di stagione. 13 partite. Poi dipende anche quanto andremo avanti in Coppa Italia. Iscrivetevi al canale. Cerchiamo di arrivare ai 500 iscritti. Possiamo farcela. Lasciate un mi piace. Attivate la campanella. Per non perdere i prossimi video. Alla prossima!